A inizio 2020 è stato avviato il progetto Pan Prat per la reintroduzione della pecora da latte nelle valli bergamasche. Ha ormai poco più di quattro anni dall'inizio di questo progetto, facciamo il punto, come sta andando? Beh, direi che sta andando bene con due note di difficoltà che vanno evidenziate. Uno, abbiamo lanciato formalmente il progetto l'8 febbraio 2020, poi ci ricordiamo che il 21 febbraio siamo andati in lockdown e quindi ci siamo stati dentro fino a praticamente fine 2022. Il progetto era di concludere, ma non concludere nel senso di finirlo, ma di lanciarlo in maniera definitiva entro il 2023, febbraio 2023, in realtà siamo nel 2024. Quindi abbiamo perso sì due anni, ma ne abbiamo recuperato uno. Il progetto era nato nel 2017 in collaborazione con l'ABF Operatore Agricolo di Clusone e con l'immancabile per me Unimont di Edolo, l'Università della Montagna che ricordo essere una filiale dell'Università degli Studi di Milano e quindi oggi siamo al punto di dire il progetto è lanciato e ha praticamente generato almeno quattro attività che sono ancora embrionali, ma che sono a Bossico, che sono a Polaveno in Valtrompia, che sono a Corteno Golgi, appena sopra Edolo e che sono a Nasolino. Non pensiamo a grandi allevamenti, pensiamo a insediamenti di massimo di 20 capi, perché tutte queste persone che sono o studenti o ex studenti, sia di ABF che di Unimont, stanno partendo dal progetto. Quindi è un'integrazione al reddito. La razza che noi abbiamo scelto, anzi che gli studenti nel 2017, 18 e 19, sia di ABF che di Unimont, avevano scelto sulla base di sei razze proposte era la pecora e è la pecora delle langhe, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Quindi oggi si va avanti, si producono naturalmente in maniera, non abbiamo problemi a dire risibile, formaggi. Che non sono il pecorino di andare in concorrenza con i toscani, i sardi, i romani, eccetera. Ognuno fa il suo mestiere. Questi sono dei formaggi che chiamiamo Tome, più verso la cultura e la tradizione delle langhe, quindi del cuneese. Per questo tipo di allevamento c'è bisogno di professionalità particolare? Direi di no, nel senso che alla fine sono pecore e quindi le pecore le sanno allevare tutti. Tutti sanno tirare le reti per farle pascolare, fare il fieno, per portargliele, pulirle, gestire i parti, eccetera, eccetera. O santo cielo, direi che forse, anzi, certamente una particolarità, una professionalità un po' particolare c'è nella caseificazione. Voglio solo ricordare che il latte ovino è un latte che arriva all'8% di grasso, contro un 3,5 del latte vaccino, quindi di vacca, e ancora meno del 3, quello di capra. Quindi un latte così grasso, ripeto, con l'8%, nel momento che vai a caseificarlo deve seguire dei protocolli un po' particolari. Tant'è che l'Unimont, a Idolo, ci ha chiesto di organizzare due, chiamiamoli corsi, due corsi di mezza giornata, due sessioni di corsi, in cui andiamo a fare una demo caseificazione, erano 20 posti a disposizione, siamo già arrivati a 32, nella sessione del 5 di marzo e 34 nella sessione del 19 di marzo, probabilmente lo rifaremo poi in autunno. E cosa facciamo noi? Andiamo su e portiamo un nostro mini caseificio e facciamo una dimostrazione di come si caseifica latte o vino. Quando io dico cosa facciamo noi, cosa faccio io? A supporto di studenti, stagisti o ex studenti o persone che oggi caseificano latte o vino e che niente di meglio che far vedere in una sala come in due ore e mezzo si passa da 10 litri di latte o vino o vaccino per metterli a confronto a uno stracchino, una formagella, un canestrato, della ricotta, eccetera. Anche basandosi su delle esperienze che abbiamo fatto nel 2023, udite udite, in biblioteca. In biblioteca, sì, siamo andati a fare il formaggio nella biblioteca di Treviolo, con un grande successo, abbiamo ripetuto questo alla biblioteca di Parre, con un grande successo, dove l'attore principale era il latte o vino ed era Gabriele Pezzotta, che è uno stegista, uno studente di operatore agricolo dell'Istituto Sacra Famiglia e che verrà in stage da me a Nasolino. E quindi, bene, Unimont ci ha chiesto questo, insomma. Quindi si è consolidato il rapporto con le università? Direi decisamente di sì, soprattutto con Unimont e con l'Università di Milano, anzi ne approfitto per ringraziare la direttrice Lanna Giorgi, il professor Luca Giupponi e il professor Alberto Tamburini, che ci hanno seguito in questo progetto e continuano a seguirci e addirittura sono partiti con noi con questo progetto. All'Unimont una studentessa, Marta Ruzziere, dopo aver fatto il suo stage a Nasolino in foresteria per due stati seguendo queste pecore, ha poi sviluppato una tesi proprio sulla pecora da latte ottenendo un ottimo voto. Dopodiché si è trasferita a Sassari per una specializzazione Sassari, Sardegna, pecora da latte, muffloni, fauna selvatica e udite udite adesso si trasferisce a Reykjavik in Islanda per un ulteriore piuttosto lungo corso occupandosi sempre di latte, in questo caso di latte di renne e di pecore. Nel frattempo questa Università di Reykjavik partecipa in Svezia a una riunione a quattro giorni di convegno dove sono i paesi nordici, quindi Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia e Islanda. Ci hanno chiesto gli organizzatori di andare su a presentare il nostro progetto pecora da latte e quindi la pecora da latte va all'università non solo a Edolo, non solo a Milano, ma andrà anche a Lund che è vicino a Malmo in Svezia e sottoscritto farà di tutto per esserci, ma sicuramente ci sarà sulla nostra Marta Ruzier che presenta questa che noi magari la snobbiamo un pochino, poi all'estero quando gli presentiamo quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, la tesi che abbiamo fatto dicono ma questa è un'eccellenza che vogliamo veniate su a presentarci. Il tema qual è? è nuove strategie, nuove iniziative per preservare, salvaguardandolo, il territorio e l'ambiente con un ritorno economico. Perché l'ambiente e il territorio lo salviamo solo se ci saranno dalla gente sopra che lo mantiene, ma non spinta da un'azione assistenziale, spinta dal fatto che gli conviene anche, che ha un ritorno economico. Ecco, quindi io direi che il progetto pecora da latte è oggi per me una realtà e ne sono orgoglioso e soprattutto sono orgoglioso del fatto che magari qui non se ne accorge quasi nessuno, però in Svezia si aspettano su il 12 e il 13 di marzo. Quindi l'obiettivo in prospettiva è far diventare queste attività redditizie? L'obiettivo è, l'attività è redditizia perché c'è dietro uno studio, una tesi, c'è dietro uno studio anche di fattibilità economica e sostenibilità economica. Il fatto che mi chiedano di andare a presentare questo nei paesi nordici, dove la pecora, sappiamo benissimo che, ecco, non voglio fare nessuna anticipazione, ma qualcuno mi ha anche buttato lì, ma lei pensa che potremmo anche replicare questo qui? Perché no? Portiamo su 20 capi e facciamo un test dove? Dove lo volete fare? In Darimarca? Lo volete fare in Finlandia? Lo volete fare in Norvegia? Lo volete fare in Svezia? Noi siamo qui. Abbiamo sentito un progetto che quindi procede bene, sembra che gli aspetti siano solo che positivi, ma invece c'è anche qualche difficoltà. Beh, come sempre, come sempre non è che sono tutte rose e fiori, oddio, ci saranno anche tante rose ma ci sono anche tante spine. Quali sono le difficoltà maggiori? Uno, far passare un concetto, un progetto, adesso senza nulla togliere a nessuno, ma quando io mi presento e parlo alla gente, magari anche a qualche agricoltore, della pecora da latte e la risposta è se ammulzarai peger. Bene, ragazzi, ci sono delle economie che si reggono su la casificazione di latte o vino. Attenzione, la vacca da latte, quindi vacca latte vaccino, si è diffusa nel XVIII secolo, perché quando i Veneti chiedevano ai capitani della Val Seriana delle somme di quel lettome di formaggio, non era latte di vacca, era latte di pecora. Consentitemi una battuta. Polifemo faceva la ricotta e faceva i formaggi, ma non li faceva con le vacca, le faceva con le latte di pecora. La stessa pecora bergamasca, e ringrazio il professor Corti per un'indagine, una ricerca storica che ha fatto lui, 200, 300, 400 anni fa era munta. Poi, all'arrivo della vacca, che produce molto più latte, la peccora, la lattazione della pecora è stata abbandonata e si è andato sul latte vaccino. In realtà la pecora produceva abbastanza latte per fare dei formaggi, tant'è che oggi esiste ancora un formaggio rarissimo che si chiama il Bernardo, che cos'era fatto? Era fatto con l'80% latte vaccino e col 20% latte di pecora. Quando la pecora bergamasca, anche pecora bergamasca, perdeva l'agnello perché era stato sacrificato, perché era morto o che, la pecora doveva essere munta, altrimenti prende la mastite. Quel latte lì, oggi magari lo mungono in terra, una volta lo recuperavano, lo mischiavano e veniva fuori questo formaggio piuttosto giallognolo, molto pastoso, legato al fatto che il latte o vino, ripeto come ho detto prima, aveva l'8% di grasso, che veniva chiamato latte, dal latte o vino veniva fuori questo Bernardo, dopo potremo indagare su perché si chiamasse Bernardo. Altre cose sono che quando sei in numeri di capi al di sotto, così esigui, cioè al di sotto dei 50, quindi 30-20, non hai nessun contributo, quindi lì devi arrangiarti. L'altra difficoltà è che la pecora dal latte ha bisogno comunque sempre, anche se va al pascolo, di un ricovero, quindi io dico sempre che lei deve avere a disposizione l'ombrello, poi decide lei se deve andare a tetto o non tetto quando c'è il tempo orale, eccetera, ma il semplice fatto di doverla mungere richiede di avere una struttura, strutture che esistono sul territorio, ma che costano una cifra a rimetterle, a riqualificarle, laddove uno con tanta difficoltà riesca a superare lo scoglio e la via crucis della permissologia, perché poi lo sappiamo tutti, però secondo me è un'opportunità, io ci credo, tant'è che io alla mia veneranda età, continuo a gestire il mio piccolo gruppetto suo nasolino con delle belle soddisfazioni.